Ben ritrovati, ben ritrovati nel mio canale e in questo mio nuovo video. Mi raccomando, iscrizione è assolutamente importante, come sempre. Allora, siamo alla vigilia di campionato, classica vigilia, quindi ovviamente ci sta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, in virtù della partita di domani alle 18 allo stadium e arriva l'Atalanta. Allora, non riuscirò a darla in live da questo canale, la darò in live dall'altro mio canale, YodaJ, e in descrizione trovate il link diretto per potervi accedere. Vi consiglio di iscrivervi anche presso questo mio altro canale, perché probabilmente cercherò di fare le conferenze, o perlomeno di dare in live le conferenze da quel canale. Partita ovviamente, che ve lo dico a fare, difficile da vincere assolutamente, perché abbiamo il Milan che ci tallona dietro e che alla prima occasione potrebbe surclassarci. Atalanta, Atalanta che viene da un momento, diciamo, positivo, che si sta un po' riprendendo, e quindi dobbiamo cercare un po' di fargli reali e cercare noi di prendere il largo e di fare noi la partita possibilmente. Ripeto e ribadisco, in descrizione trovate il link diretto della live, mi raccomando, e fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto, forza Juve! Grazie!